Aieee 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 Ciao Lunedì 10 giugno Lei lui l'altro di nuovo in trio E si Ben tornata Grazie, ringrazio tutti gli elfi E' stata una settimana durissima Fai ancora quella più commossa E Com'è che faceva il video degli elfi Eeeh Ringrazio tutti gli elfi Aveva un po' proprio anche l'affanno dall'emozione Ben tornata a Ludovica Comello Ciao, ciao amici, ciao Dario Micolaus Ciao anche Edoardo Mecca Allora ciao a tutti, io saluto ovviamente DJ Spine in regia Ciao ragazzi, non mi guardi No sì sì ma perché Schifato me Perché tu sei ancora un po' a distanza Sei ancora un po' diffidente diciamo Dalla riqueza di Ludovica Sì Spine mi schifa Mi schifa pensa che Cioè Ha avuto la scabbia fino a ieri Spine non toglie quei piedi incrociati Sul bancone della sua postazione Ma manco se dovesse esserci il terremoto Oggi invece Sono entrata io Si è inventato che dovevo andare a bere l'acqua Sì sì è tutto Aspetta che devo dire una cosa a Valter Ho una riunione al terzo piano Sì 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 di tutto Ho dovuto incendiare dopo lo studio Per me sanificarlo È vero è vero Salutiamo anche Azaia sui Novigli Ciao Azaia Buonasera ragazzi Buonasera 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 A proposito Mettiamo un disco E poi ci racconti un po' che cosa è successo Sì che tuttora non so bene bene cosa stia succedendo in me Però Però magari mi potete aiutare Nella forma e nel colore soprattutto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti